Progetto di un primo videogioco con Arduino, con solo il test dell'uscita video, qui abbiamo la breadboard, con impegnati i pin 8 e 9 della scheda Arduino e il ground, tutto quanto collegato ad un televisore con un adattatore SCART, se si collega la batteria, vedete che se non c'è il potenziometro e tantomeno il pulsante per far partire il gioco, il gioco si avvia automaticamente come si può vedere inizia anche a contare il punteggio. Allora, brevemente descrizione del circuito, questo ponticello nero è il ponticello di sincronizzazione tra i due cavi che si collegano all'uscita video, uno va al ground, uno va al cavetto giallo che va sul pin 8, qui ci vorrebbe una resistenza da 1kOhm, però io non lo l'ho messa perché non ce l'ho, l'altro va al pin 9 di Arduino e c'è una resistenza da 330 Ohm. Questo quindi è il codice d'orgente che lo trovate nella descrizione e questo qui è solo un test per testare l'effettiva funzionalità dell'uscita video del videogioco.